Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giupa17 e oggi siamo tornati su Battlelands Royale per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, come vi avevo comunicato nell'ultimo infotime, oggi è il 2 novembre, sono le ore 15 e sono online pronto a giocare con voi Ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi Va bene ragazzi eccoci qua nel primo match di oggi Allora il mio compagno di squadra sta scendendo da quella parte Stanno arrivando anche dei nemici, ahia ha già un'arma, ha già un'arma Prova a dargli una mano Guardalo che è andato giù Adesso lo sto picchiando Perché mi ha fatto male e gli prendo l'arma Ottimo Allora adesso però ci servono dei medikit Dove è andato? Ce n'è uno da solo Ok è qua Attento Attento Ok è andato giù Io do un'occhiata in giro Ok ha battuto Oh Il mio compagno E là Ha trovato un'armetta dorata Non l'avevo vista Allora facciamo che spostarci E quello lì secondo me era il suo compagno di squadra Attenzione a non seguirlo troppo Sono in due Aspetta 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 No Troppo distanti Ci stanno portando fuori dalla safe E noi rientriamo subito Ok è andato giù Ha anche l'arma dorata Gli la porto via Ottimo Facciamo che rientrare Qualcuno con il lanciarazzi? Oh caspita Siamo finiti in mezzo alle erbacce Qui si stanno distruggendo Perfetto Ok Abbattuti entrambi No Ok No sono giù anch'io Alle spalle Uccidilo 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 No dai Non ci credo Siamo morti così Ci siamo uccisi a vicenda Ah potevamo vincere Potevamo vincere Ok ragazzi si parte Scendiamo di nuovo sulla nave Secondo me è uno dei luoghi migliori Attenzione sto giocando con un re Sto giocando con un re Ha visto anche lui lo scudo Prendilo prendilo dai Ah lo lascia a me Grazie Pensavo lo prendessi tu Adesso dobbiamo trovarne uno anche per te Dobbiamo trovarne uno anche per te Aspetta che prendo quest'arma qua Ah c'è anche lo scar Uh ottimo Bravissimo Aspetta Aspetta Vediamo cosa esce da qua Prendila Se vuoi prendila Siamo già rimasti in 18 Cadono come foglie 17 10 team rimasti No aspetta Non dobbiamo allontanarci Ah hai visto uno scudo Di nuovo io devo prenderlo Ok Grazie Dai che ti lascio le munizioni Ottimo No sono giù Eh ci hanno teso un'imboscata Bravissimo Bravissimo Perché ci hanno anche teso una bella imboscata Aspetta che prendo Grazie Sì ho visto che le foglie che si muovevano Però non mi aspettavo che Concentrassero il loro fuoco solo su di me Un'altra imboscata di nuovo Eh vabbè però Non è possibile Ah sta sparando lui Ok ce l'abbiamo fatta Mamma mia che scontro Eh vabbè arriva Il Johnny di turno Sono giù Ce la farà Dai devi abbatterlo Nooo Ah peccato Va bene dai ci abbiamo provato Siamo comunque arrivati nella top 5 eh Anzi nella top 3 Purtroppo non avevamo più nulla Anzi siamo arrivati secondi Non male dai Ok ragazzi Nuovo match No ma dove è atterrato il mio compare E' atterrato dall'altra parte del mondo E lo sapevo che se la pigliava lui Guarda me ne vado Ti lascio lì Non ho praticamente più salute Però non ho capito dove è atterrato Ah sta arrivando A me serve un medikit però Mi serve assolutamente un medikit Eh no 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 Non ci conviene Non ci conviene Non ci conviene Vieni qua Dove sta andando Perché deve andare via da solo Perché è andato al drop da solo Eh meno male che è riuscito a prenderlo Prenditi anche l'altro scudo Vabbè lo prendo io va Però a me serve un medikit Perché messo come sono messo Non vado da nessuna parte Cioè quando non mi servono gli scar Ne trovo avalanghe Adesso che mi serve un medikit Non ne trovo uno manco Manco a pagare Guarda ma che roba Solo armi Pazzesco Eh te pareva Adesso becco il medikit Adesso che sta arrivando Coprimi Mamma mia Ti ho salvato per un pelo Adesso dobbiamo trovare un medikit a te Avanti indietro con i medikit No non ce la facciamo Scappa 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 C'è troppa C'è troppa gente Mamma mia che partita Sono sempre tutti qua eh Ok grazie Grande Abbattuto Prenditi pure le munizioni Che pelo ragazzi però No ma così non ce la faremo mai Dobbiamo trovarti un medikit Dobbiamo assolutamente trovarti un medikit No sono giù Sparagli Bisogna fargli sprecare i proiettili E poi Ucciderlo perché se lo attacchiamo immediatamente ci frega lui Ok ragazzi Nuovo match Allora Sto scendendo proprio ora Dobbiamo Recuperare Almeno due armi C'è gente qua sotto eh Prenditi quella nel frattempo Poi al massimo te ne troviamo una migliore Gli ho lasciato i proiettili Non volevo prenderli eh Volevo già lasciarglieli E oramai vincere su questo titolo è diventata È diventata dura eh Più che altro perché sta spopolando e quindi In tanti si mettono lì delle ore per cercare di imparare tutti i trucchetti possibili Non parlo di cheat eh Trucchetti nel senso tutte Le varie tattiche per riuscire a portare a casa il maggior numero di match Scendere al centro della mappa Scendere Ai bordi In un luogo piuttosto che in un altro Prenditi lo scudo Ok però cambia arma Non so se l'ha già cambiata No non penso Poi o becchi il mondo O se no non trovi nessuno Tipo adesso che ci sono 50.000 persone In questa zona Vai giù o no? Guardalo Via 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 Ma poi si nascondono sempre in mezzo a questa erba È fastidiosissima Vieni 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 È fastidiosissima questa erba Perché tanti per esempio la usano per fare delle imboscate Un bel medikit Scusate eh Ho visto un medikit Siamo rimasti in sette Secondo me sono tutti di qua Sei in mezzo Sei in mezzo Sì vabbè quanto scudo ha Ah dai non ci credo Sono andato giù io Ho tirato su lui Niente Siamo arrivati di nuovo terzi Non ce la facciamo oggi Arriviamo sempre Fino A un metro dalla vittoria Ma non vinciamo mai Oggi va così No sono belle partite Perché comunque sono molto combattute Però Non riusciamo a portare a casa una vittoria oggi Va bene ragazzi Ci riproviamo Qui non si molla niente Ve l'ho detto Il livello di sfida si è alzato in maniera incredibile Perché se andate a vedere i primi video che ho portato di Battlelands Royale Era molto più facile vincere Adesso in molti Si stanno dedicando tanto a questo titolo E quindi è molto facile beccare gente forte Prendo lo scar perché comunque come arma è devastante C'è uno scudino Prendilo pure tu Bravo Così abbiamo più o meno lo stesso livello di scudo Secondo me qui Ci faranno un'imboscata Ma un'imboscata No 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 Prendila tu Prendila tu E' tua Beh ci guardiamo Vabbè prendo io No perché ci guardiamo Stavamo guardando nelle palle degli occhi Per dire la prendo io O la prendi tu Eravamo indecisi Altre munizie Mie No sei troppo Non gli sto facendo niente Cioè gli ho fatto male Però ci ho messo una vita e mezza Arriva gente Aspetta Aspetta Però se mi vai giù Niente Quando becco il team da due Con il mio uomo giù Non c'è niente da fare Stessa cosa quando becchiamo noi gli altri No e c'è già uno giù E' facile tirare giù anche il secondo Va bene Altra partita andata Passiamo Alla prossima Ok ragazzi Proviamoci ancora Tanto comunque considerate che queste partite le gioco Tanto per passare del tempo insieme a voi Non è che mi cambia la vita Vincere oppure no Sicuramente Mi farebbe piacere Però Oddio Se Non riesco a portarle a casa tutte Pazienza Non è che No E vabbè Sono già circondato però Me ne vado Perché sono già circondato Ah sta anche arrivando il mio compare Alla buon'ora eh Ho rischiato di lasciarci le penne Ok per fortuna ha fatto finta di non averci visto Ciao Ricominciamo va Sento che questa qua è quella buona Sì ma stanno scappando tutti quanti È bello che ha appena recuperato il medikit Sì vabbè quanto scudo hai Johnny Ne ho battuto uno davanti e uno dietro Eh ne avevo uno alle spalle È un macello È un macello No mi sa che non era la partita buona Però è stato fantastico Ho ucciso uno davanti Poi mi sono girato di 180 gradi E ho ammazzato anche quello dietro Fantastico Ricominciamo Ok Nuovo match Siamo atterrati se non sbaglio Vicino al Allo space shuttle Scusate allo space shuttle Quindi alla zona di lancio Eccola le via Perché vi stai attaccando Io non ho neanche un'arma Che roba No vieni via Vieni via Vieni via Tu sei praticamente Infine Eh vabbè ma c'è gente ovunque C'è gente ovunque Ecco bravo Prenditi uno scudo Io cambio arma Perché con questa qua Non vado da nessuna parte Stai andando Verso il drop In fin di vita È un mezzo suicidio Bello che gli stiamo correndo dietro Adesso si gira Ci tritura Eh infatti Appena detto Eh vabbè sono finito In mezzo al Ma che roba Ce ne erano quattro Nascosti nell'erba Va bene ragazzi Altra partita Dai sento che questa qua È quella buona Almeno una vittoria La dobbiamo portare a casa Comunque secondo me In due è molto più difficile Vincere Perché se avete visto In uno degli ultimi episodi Ho giocato una partita Tutti contro tutti Da solo E sono riuscito a portare a casa Un'incredibile vittoria Ok Dagli il colpo di grazia Ok Aspetta che si è nascosto lì dietro Eh Bravissimo Bravissimo che l'hai tirato giù Prenditi pure quel medikit Gli ha tirato due cartoni Alla Bud Spencer Return Seal 19 eh Dai 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 che vinciamo Siamo Arrivati se non sbaglio Al porto Quasi Eh vabbè Niente Andata così Niente Non c'è verso eh Stasera Anzi Oggi pomeriggio Non c'è verso Non riusciamo a Vincerne una Ok ragazzi Ultimo Match Di oggi Eh vabbè Arriva già anche Altra gente Fantastico Mio Mio Ah Hai usato Toccarmi Adesso verrò a prenderti No ti lascio andare Non mi interessi Ci si vede Tra 5 minuti Cosa voleva fare Questo qua Eh vabbè Però ti hanno già tirato giù Niente ragazzi Partita Durata Pochissimo Guardate quanto Quanto aveva di salute Non aveva più niente Va bene ragazzi Ultimo match di oggi Perché vorrei che durasse Un pochettino di più Rispetto a prima Guarda sto Johnny Che poi ho comunque Ho sentito che in tanti Hanno Problemi con l'account Perché tipo Gliel'hanno Gliel'hanno tipo Bloccato Perché usavano i trucchi Ragazzi ma Non usate i trucchi Dai In fondo alla fin fine È un gioco eh Se mi lasciavi anche Un medikit Grazie Visto che ti ho salvato Quando vi bannano Comunque l'account Mi spiace dirvelo Ma Dovete crearne uno nuovo Anche se avete smesso Di usare i trucchi Li avete comunque utilizzati Ecco l'attacco Dobbiamo tirar giù l'altro Ok Eh vabbè Siamo già di nuovo circondati Adesso ci nascondiamo noi In mezzo all'erba Ho sbloccato qualcosa Non ho capito cosa Grandissimo Però ci stanno attaccando in due Sono giù E lui non ha più Non ha più niente di salute Va bene Dai è andata così va Ok ragazzi Proviamo a giocare una partita In solo Questa volta Non avrò Compagno di squadra Guardalo come spinge Volevi rubarmi l'arma eh Sì sono già praticamente In fin di vita Va bene Che bello Dice un medikit Speriamo che non ci sia Nessuno in giro Qui c'è anche una cassa Proviamo ad aprirla Ho trovato il medikit Va bene Allora Siamo già rimasti in venti Rendetevi conto Da 32 Ne sono già morti 13 14 Stanno cadendo Come foglie E lì c'è qualcuno Ah Johnny qua Ha un bel po' di Scudo eh Ok abbattuto Questa me la prendo Devo trovare Dello scudo E anche un bel medikit Usiamo questo qua grosso Siamo rimasti Già in nove Uh fucile da cecchino Preferirei non Non prendere quello No 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 Eh lo sapevo che mi avrebbe dato Sì vabbè Scusate eh C'è gente che si teletrasporta Qui però eh A me va bene tutto Sono arrivato settimo Però Se avete visto Si è teletrasportato Cioè Ok ragazzi Eccoci tornati Nel menu principale Di Battlelands Royale Gran belle partite Peccato non aver portato a casa Neanche una vittoria reale Sono comunque contento Che molti di voi Abbiano partecipato A questo evento E siano riusciti a beccarmi online Tanto la cosa importante È divertirsi insieme Poi se si vince bene Se non si vince Pazienza Domani è un altro giorno Mi spiace soltanto Nel single player Nel solo Aver beccato un avversario Che si teletrasportava E Non aver avuto in mano Magari uno scar Perché probabilmente L'avrei abbattuto In 448 E vabbè Mi rifarò anche lì In un prossimo episodio Come sempre ragazzi Spero che questo video Comunque vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Battlelands Royale Alla prossima ragazzi